Negli studi di TV City l'assessore con delega al cimitero Giuseppe Speranza ci prepariamo al lungo ponte dei morti per la commemorazione dei difunti predisposto un piano della viabilità. Dici bene lungo ponte dei difunti perché effettivamente ha dato la possibilità all'amministrazione e ai responsabili della viabilità di distribuire meglio i servizi sul territorio. Dal canto nostro come ufficio servizi cimiteriali abbiamo ritenuto di unificare gli orari di apertura e chiusura onde evitare disguidi e malintesi con chi magari proveniva da fuoritorre e non conosceva bene poi quelle che erano le caratteristiche degli orari di apertura e chiusura. Come primo weekend, cioè tra sabato e domenica, le cose sono andate non dico bene ma abbastanza bene. C'è stata una frequenza regolare di visitatori al cimitero. In questi giorni dunque il cimitero fa orario continuato? Sì, orario continuato dalle 7 alle 17. Sulla mia pagina ho pubblicizzato abbondantemente questo dispositivo di orario e sicuramente è una cosa positiva perché ognuno a qualsiasi ora può regarsi al cimitero, naturalmente entro le 17, anzi possibilmente un po' prima delle 17 perché alle 17 è chiusura. Dal punto di vista dell'ordine della pulizia sono stati previsti interventi straordinari per questi giorni? Beh, è proprio straordinario non direi perché la pulizia è un fatto ordinario. Posso dire con soddisfazione e con orgoglio che negli ultimi tempi il cimitero è abbastanza pulito, abbastanza ordinato. Ieri ho visto più persone che si regano al cimitero con il proprio pelosetto a quattro zampe, mi riferisco ai cani. Sì, non è vietato l'ingresso al cimitero degli amici a quattro zampe, però è vietato se gli amici a quattro zampe arrivano senza museruola e arrivano senza il sacchetto per le deiezioni e la palettina. Quello potrebbe essere un motivo di contravvenzione per chi si rega al cimitero e un luogo pubblico senza provvedere a questo adempimento. Qualcuno lamentava i nostri microfoni sul funzionamento ridotto delle fontanine. Abbiamo verificato questo aspetto e devo dire che effettivamente nelle ore di punta qualche fontanina è a secco completamente. Però a qualche amico ho dovuto rispondere, se apri contemporaneamente tutte le fontane a casa tua, può darsi che qualcuna diminuisce la pressione e qualcuna addirittura non butta, dipende dalla distanza. Sicuramente non è che possiamo provvedere in questo periodo ad aumentare la pressione dell'acqua al cimitero che è già di per sé abbastanza alta. Potremmo provocare altri tipi di guasti perché purtroppo le condotte idriche non sono a vista. Quindi se c'è malauguratamente una perdita d'acqua non riusciamo a rilevarla subito. Quindi quello che chiederei ai cittadini è un po' di comprensione, un po' di pazienza. Dal punto di vista strutturale nel corso di quest'anno sono stati fatti degli interventi? Sicuramente stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione come ben sapete e ben vedete anche girando nei viali del cimitero. Altri saranno fatti. Da qualche settimana abbiamo finalmente approvato il project financing per una parte nuova del cimitero che credo da qui a poco dopo Natale, almeno da quello che intuisco, potremo anche iniziare i lavori. Prevediamo l'allargamento della prima parte del viale che porta al cimitero. Mi riferisco all'attratto che va da via generale dalla chiesa allo spiazzo a distante dal cimitero. Quindi anche quello sarà un bel servizio che regheremo alla cittadinanza e sicuramente sarà gradito a tutti. Il 2 novembre per la commemorazione dei defunti alla chiesa madre ci sarà una messa? Sicuramente non una ma ci sarà la messa per la benedizione e per il rito della benedizione delle tombe che prevede subito dopo la messa il corteo di tutti i presbiteri unitamente alle autorità, unitamente ai cittadini con l'occasione per invitare la città tutta a presenziare perché è un momento di raccoglimento generale. In conclusione diciamo che in questa città il culto dei morti è molto sentito. Sicuramente, anzi, me ne compiaccio e mi sono convinto di una cosa che credo in passato ero scettico. Veramente il cimitero è un luogo di aggregazione e di incontro di tutti. Grazie. 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 Grazie.